Benvenuti qui allo stand della boutique della carne di cui io sono il titolare che sono Ruben Esposito in questo stand troverete principalmente i nostri prodotti di nostra produzione ha principalmente la carne carne locale del monte feltro lavorata in boutique da noi poi troverete la nostra porchetta porchetta fatta principalmente da noi con aromi naturali e con maiali sempre della zona in più troverete la nostra gastronomia di cui gratinati di cui dopo le focacce tutto quello che è l'ambito della gastronomia la mia squadra si opera in questa sagra di monte la vade qui alla sagra delle pesche si opera a lavorare per me come un team quindi siamo tutti una grande compagnia e stiamo facendo del nostro meglio la mia macelleria si trova a osteria nuova di pesaro nel comune di monte labate e li potete trovare anche altri prodotti con i nostri preparati di carne potete trovare anche i nostri salumi salumi fatti come una volta senza l'uso di conservanti salumi che ad oggi giorno è difficile trovare in più potete trovare i nostri preparati di carne preparati che ogni periodo in base al periodo estivo invernale vengono a seconda del periodo quindi vengono a cambiare vanno a cambiare e poi troverete anche la nostra gastronomia quindi preparati cotti dai polli alla porchetta ogni venerdì potete trovare le patate i gratin che trovate stasera e li trovate anche la nostra macelleria in più da noi qui troviamo anche la nostra salsiccia tutta naturale fatta sempre con maiali della zona e qui la potete trovare sia qui e poi nel nostro negozio potete trovare anche il gas il castrato quello trovate cotto giustamente se venite in boutique lo troverete da farlo a casa ma sempre un castrato locale e dove potete gustarlo in più qui troverete anche arrosticini di polli è fatto da noi principalmente da noi con dei polli allevati a terra senza antibiotici quelli che trovate troverete qui sono quelli cotti da noi troverete quelli crudi da fare sempre a casa come un preparato di carne e stiamo facendo tutto il possibile per fare il meglio e per goderci questa sagra